E' piena emergenza al Santimotio di Termoli, dove il reparto di medicina d'urgenza è al collasso. Ci sono nove pazienti malati di covid e ricoverati in condizioni serie. Hanno bisogno di essere trasferiti al Cardarelli di Campobasso, ma non c'è più posto e i trasferimenti sono bloccati. Una domenica passata al telefono per cercare un ospedale dove ricoverare i pazienti, quella passata dai pochi medici in servizio al Santimotio è ormai allo stremo. Dall'Abruzzo sono arrivati tutti no, anche qui alle prese con la variante inglese e con i posti letto esauriti in tutte le strutture sanitarie. Due pazienti più gravi alla fine sono stati accettati in Puglia, agli ospedali di Foggia e San Giovanni Rotondo, ma la situazione al Santimotio resta molto critica. Continuano ad arrivare pazienti che hanno bisogno di essere visitati, con crisi respiratorie, febbre e tosse, soprattutto da Termoli e Campomarino dove i contagi sono schizzati, ma anche l'area grigia dell'ospedale è piena. Una situazione dunque al collasso con l'intero territorio del Basso Molise in emergenza e il solo ospedale di Termoli al limite, dove si cerca di curare questo terribile virus senza personale e senza mezzi. La terapia intensiva Covid con moduli prefabbricati annunciati da tempo dall'ASRE, ma Termoli non si sono visti, così come sono in ritardo i lavori nell'ex hospice di Campobasso che deve diventare ospedale Covid. Ritardi che ora pesano come macigni sull'assistenza sanitaria pubblica.